di questi tragici fatti del 1992, ma abbiamo il dovere di non dimenticare, di ricordare sempre, vedo tanti ragazzi, questo è fondamentale, importante, ricordare quello che è successo nella speranza che non accada mai più. Di questi fenomeni ne dobbiamo parlare sempre, l'abbiamo detto qualche giorno fa anche alla festa della Polizia.